ciao bentornati bentornati vediamo in questo video un limite di funzione quindi un esercizio che può interessare studenti di quarta quinta superiore o anche studenti che devono dare analisi 1 all'università il limite di x che tende a meno infinito di radice di 4x alla seconda più 4x più 1 fratto x e come leggiamo è un limite facile da sbagliare nel senso che in un passaggio c'è un punto un po delicato dove molte persone so per esperienza che tendono a fare il passaggio sbagliato e quindi arriveranno a una soluzione errata come sempre se vuoi provare a svolgerlo da solo metti in pausa e tra un attimo vediamo il risultato per prima cosa notiamo che è una forma di indeterminazione perché è una forma infinito su infinito ad essere più preciso è una forma più infinito fratto meno infinito infatti per quanto riguarda il numeratore il termine dominante 4x alla seconda che tende a più infinito anche se sotto radice sempre più infinito mentre il denominatore tende a meno infinito ma che sia più o meno infinito non fa differenza si tratta di una forma di indeterminazione questo non significa che il limite non esista o non sia determinato ma significa solo che non si può risolvere con l'algebra dei limiti ma dobbiamo fare dei passaggi ulteriori osserviamo che la parte sotto radice è composta da due quadrati cioè 4x alla seconda e 1 e questo 4x è proprio il doppio prodotto di 2x per 1 si tratta quindi del quadrato di binomio quindi il numeratore lo possiamo riscrivere come radice di 2x più 1 alla seconda ora l'errore che vi dicevo all'inizio è quello di semplificare semplicemente la radice quadrata con l'elevamento alla seconda e lasciare semplicemente 2x più 1 ma questo non sarebbe corretto perché la radice quadrata di una certa quantità elevata alla seconda da il valore assoluto di quella quantità quindi al numeratore non abbiamo semplicemente 2x più 1 ma abbiamo 2x più 1 in valore assoluto se questa cosa non ti convince del tutto ho fatto un video dove passo passo ne spiego i motivi ti lascio il link sotto in descrizione e come deve essere trattata la funzione valore assoluto in generale la funzione valore assoluto di f di x è uguale a f di x se f di x è maggiore di 0 cioè se f di x è positivo ed è uguale a meno f di x se f di x è minore di 0 questa cosa a qualcuno può sembrare strano come quel valore assoluto ci metto un segno meno beh sì perché se f di x è negativo allora meno f di x diventa positivo il problema è che la x è una variabile quindi in generale non possiamo sapere se x o se 2x più 1 sia positivo o negativo però nei limiti c'è un fatto che ci viene incontro x tende a meno infinito cioè noi stiamo studiando questa funzione in un intorno di meno infinito cioè per valori sicuramente negativi e quindi anche 2x più 1 è negativo perché l'uno sarà trascurabile rispetto a 2x che tende a meno infinito quindi la quantità dentro il valore assoluto è negativa e perciò il valore assoluto cambia i segni quindi noi possiamo eliminare il valore assoluto ma mettere in evidenza un segno meno e quindi si ottiene il limite di meno 2x meno 1 fratto x possiamo separare i due limiti e otteniamo sempre per x che tende a meno infinito meno 2x fratto x più meno 1 fratto x qui x e x si semplificano questo tende a 0 e quindi rimane semplicemente meno 2 meno 2 è risultato corretto se vogliamo diciamo puntualizzare se tende a meno 2 per eccesso o per effetto possiamo notare che questo termine tende a 0 più perché abbiamo meno 1 fratto meno infinito che tende a 0 più e quindi meno 2 più 0 più fa meno 2 più cioè tende a meno 2 per eccesso per comprendere meglio questo risultato e per verificare nella correttezza ho tracciato con geogebra il grafico della funzione in oggetto allora se x tende a meno infinito vuol dire che ci stiamo concentrando sui valori della funzione in questa zona qua cioè con x negative che tendono a meno infinito e come si può osservare dal grafico la funzione ha un assintoto orizzontale che è proprio la retta y uguale meno 2 e in particolare tende a meno 2 più cioè tende a meno 2 da sopra faccio infine un'ultima osservazione che se avessimo calcolato il limite per x che tende a più infinito della stessa funzione allora potevamo fare gli stessi identici passaggi salvo il fatto che quando si otteneva il valore assoluto di 2x più 1 potevamo allegramente eliminare il valore assoluto senza modificare nulla perché in questo caso l'argomento sarebbe stato positivo e quindi si otteneva il limite per x che tende a più infinito di 2x più 1 fratto x che facendo passaggi analoghi ai precedenti veniva 2 più nel più precisamente 2 più e infatti si può osservare che in questo caso la funzione ha come assintoto orizzontale destro y uguale a 2 e non y uguale a meno 2 come avviene invece a sinistra se questo video ti sembra utile metti un like e condividilo con tutti quelli che devono dare prove di matematica alle superiori all'università ciao e grazie grazie